eccoli 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 Trollati è la partita più bella che abbia mai fatto non ho fatto niente E come avete visto nello scorso episodio del troll al cavo abbiamo trovato tutti insieme alla crew e ne è uscito un qualcosa di veramente Pazzo ci siamo ci siamo ci siamo ci siamo lo sto prendendo sta prendendo il cavo lo sto prendendo senti bella come avete visto ragazzuoli la gente entrava e ci trovava all'interno solo che ci siamo stati più di 6 ore davanti a Fortnite a cercare di fare questo video e nel risultato veramente è un casino per chi l'ha visto oggi rifaremo la stessa cosa ma con un metodo che tutti potete fare preparatevi perché oggi insieme a Tecnoid andremo a trollare tutta la lombi di Fortnite ma prima di iniziare vi ricordo passate in descrizione al canale di Tecnoid supportatemi come creatore ci metto nel negozio oggetti e taggatemi su Instagram crazy-med così farete il provino oppure giocheremo semplicemente insieme ragazzuoli like, iscrizione e campanella ci tengo perché siamo quasi 400.000 detto questo buona visione ci siamo eccolo qui il bomberone di Tecnoid allora io ti dico una cosa se questo video dura come l'altro 4-5 ore io punto già da adesso no 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 questo è un metodo per trollare Tec preparati perché trolleremo la lombi di Fortnite zio spiegamelo però spiegamelo stai calmo stai calmo io ti posso assicurare che lo faremo solo alla prima e alla seconda partita non come l'altra volta due miliardi di tentativi ragazzi io voglio già che scendete qui sotto lasciate un pollicione perché qua si sono uniti due dei troller più grandi su Fortnite ragazzi Tecnoid e Crazy-Man dimelo forte zio dimelo forte zio let's go andiamo in partita andiamo dentro ma come che andava vai 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 ce l'hanno fregato oddio ci stavano trollando cioè ma come si fa che noi dobbiamo trollare e veniamo trollati quasi con lo stesso trucco quasi quasi i pianeti si sono allineati perché quando mai puoi registrare un video e trovare in quella partita mentre stai registrando gente che non si sa nemmeno se questi qua stanno registrando video no vabbè ci sono lì per trollare ce l'hanno trollato vabbè ce lhanno trollato Tec mettili dentro metti dentro son dentro son dentro oh vado dietro io eh vai dietro vai dietro vai dietro vai dietro fatto fatto ok adesso stai facendo un medikit non parlare non parlare hanno aperto hanno aperto no ma l'hanno fatto esplodere no ok ragazzi siamo all'agenzia sei pronta a trovare video a trollare tutti i deck subito al cavo ci siamo vai 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 no vabbè dai c'è il person aiuto aiuto c'è quello entro 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 ok curami dai aspetta oh dentro dentro vai dentro ok ci siamo tech ci siamo tech possiamo trollare ragazzi il troll consiste in questo aprite il cavo ragazzi aprite il cavo perché se riuscite a prendere subito nida mentre c'è un casino regà mentre c'è un casino ed entrate riuscire ad entrare dentro il cavo uno si mette là dietro regà e uno qua vi posso assicurare che non si vede niente regà vi posso assicurare la gente entrerà entrerà così guarda qua bubusette te faccio regà non si vede dai non si vede regà pensate persone che entrano è qua dietro la porta è lo stesso dobbiamo aspettare qualcuno le munizioni no fallimento fallimento te lo giuro volevo scambiare questa qui io ti giuro ti spacco adesso tu vai lassù e fai la camia attira nemici dai va bene mi sacrifici così vai lassù e attira i nemici stai nascosto stai nascosto vai 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 ragazzi c'è qualcuno venite sto sparando a metà mappa eh ahia c'è gente no devi portarmi la gente anche se un elicotro in arrivo eh li sento li senti si vai stanno atterrando oh se vuoi esco esco ad attirare sono atterrati qua tec vai fermo 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 io sono qua fuori in posizione siamo in sempre gai è una bomba è easy win se fa questo troll è easy win vi dimostreremo che si dice non ce la può fare eccoli sono lassù tec stanno fightando nelle nostre vicinanze sono lassù tec piano piano buono buono piano piano buono buono tec le nostre prede stanno arrivando oh ma io qua sono cioè non mi riescono a vedere vero sono bello che nascosto assolutamente sei nascostissimo vai 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 così vai così easy win questa eh dai 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 incrocio le dita le p***e incrocio quello che ti pare tec ci siamo let's go tec preparati perché adesso verranno le nostre prede c'è gente c'è gente eccoli 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 ahhh si si trollati madonna bra stai lì stai lì stai lì ancora stai lì ancora bra 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 che troppo stai lì ancora che ne arrivano altri bra questi hanno detto ma da dove spuntano non ci credo bra stai lì che ne arriveranno altri guidati bra bra è un delirio stai lì stai lì stai lì stai lì stai morendo bra stai morendo è troppo divertente è troppo divertente bra questa è sta prato poi di vedere la clip tutti che corrono con Minty esco io e gli tiro 5 colpi in destra con la Thompson bra ma sono morti tutte e due bom cioè non hanno capito che cos'è che gli ha colpiti non l'ho capito adoro la Thompson così raga cioè raga se voi riuscite ad avere Mita e riuscite ad aprirmi il capo e mettervi dentro e non vi vedono raga è fatta avete vinto la partita è fatta è fatta è fatta allora calmo perché questa ce la dobbiamo portare a casa assolutamente si bra ormai altra gente sta arrivando mi sa tu vai tranquillo chissà come si saranno triggerati bro cioè pensa noi prima che ci siamo triggerati così tanto ma loro li abbiamo trovati a inizio partita ma poi fine safe qua alla fine fine safe bellissimo regà dovete trollare per forza così dovete trollare per forza così buona buona ormai ormai la vinciamo il king dell'agenzia vai vai andiamo cioè dai mica shield altri no rip ok ci sono vai piglio la jump piglio la jump piglio la jump piglio la jump ci sono scusami regà regà è troppo bello trollare così regà e se non c'era la safe anche quelli venivano eh tutti vengono regà sei riuscito a beccare la partita tutti vengono è troppo figo con calma con calma che c'è uno che l'avevo atterrato cavolo era morto quello eh ma tutti immedesimi il loro cioè poverini poverini perché facciamo schifo fra poverini 126 a quello buono attento 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 che sopra di te guarda che ce n'è un altro allora vai non pushar così ma che non pushar così fra che non pushar così fra let's go ne ho killato uno fra help fatto 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 morto tec si 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 io sono qui eh ci siamo apri buono 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 bro ho tutto le oh ho il coso leggendario cioè assurdo perfetto a me però servono scildini li hai no apri là apri là apri là attenzione che questi mi sa che stanno lì eh buona ci siamo tec ci siamo let's go costa win frate let's go costa win guarda ma stanno lì si hanno hanno la cosa di fra hanno la cosa di di brutus te lo dico e tec e lasciamene un po' a me eh cioè sei un po' egoista picconato vieni vai picconato è la partita più bella che abbia mai fatto non ho fatto niente e col troll abbiamo vinto raga vincere facile col troll in dieci minuti vi portate a casa una partita inviatela a tutti i vostri amici signori io ringrazio tec solo dopo tre partite abbiamo vinto perché siamo riusciti a prendere niente e ringrazio spolliciate se volete altri video dove due troller vanno a vincere trollado let's go raga assolutamente 20.000 like per questo video io ringrazio tecnoid dal mattetutto io a voi se mamma mia che mattaggine signori questa volta tec siamo stati veramente matti fammelo dire troppo pro troppo troppo pro troppo troller bro Alice Crazy è iniziata una nuova avventura link in descrizione ma dove sono le angurie fa tutto parte Alice della magia adesso io schioccherò le dita e magicamente apparirà un'anguria qua guarda 3 2 1 oddio ma come fa vedi te l'avevo detto facchia mano 2 1 rango tango eh però io come mangio col martello non fatelo a casa sto vomitando diventerò un elefante ragazzi se volete l'anguria cos'è ho deciso di andarmi a lavare con la mia bella anguria che cavolo fai io vorrò bene ciao surri e tecnoid tecnoid basta ciao io sono Alice non è vero era al contrario e io sono Crazy no aspetta io sono Crazy e io sono Alice vabbè insomma siamo Alice e Crazy chi baceresti tra attenzione ruolo di tamburi anima e cicciogamer ero 89 musica 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 musica